La musica da sempre accompagna momenti felici. L'attività che facciamo oggi vi aiuterà a realizzare uno strumento musicale con materiale reperibile a casa. Oggi realizzeremo un barattolo musicale. Il materiale che ci occorre è rotoli di carta igienica, cartoncini colorati, carta d'alluminio, scotch, elastici, un paio di forbici e materiali vari come ad esempio conchiglie, bottoni, legumi, fermacarte e pietre. Prendete due rotoli di carta igienica e attaccateli tra di loro con lo scotch. Se eventualmente non l'avete potete anche utilizzare il rotolo da cucina. Una volta attaccati i rotoli rivestiteli col cartoncino colorato. Disegnate e ritagliate due cerchi da un cartoncino. Prendetene uno e inseritelo all'estremità del rotolo. Adesso prendete i vostri elementi musicali e inseriteli nel rotolo. Dopo aver messo gli elementi musicali, chiudete l'altra estremità col cartoncino. Prendete la carta d'alluminio e tagliate due quadrati. con gli elastici fissate i quadrati di alluminio all'estremità del rotolo. Ed ecco pronto il nostro barattolo musicale! Grazie a tutti!